Vivid Y6S, Ruvarendeni, Provo P. Luci accese all'ippodono di Agnano per questa seconda batteria. Cavalli che gradatamente vanno a prendere posizioni dietro le ali della macchina. Già rinunciatare, come da consueto, da copione, Provo P. E inizia a prendere velocità la macchina. Ma prende l'anziata a Uragano 3B, arretrati il 6, il 7, Vivid Y6, Ruvarendeni, galoppa il 3, Rod Stewart. Via la macchina, come da copione, a Raggi Boco, lotta con il numero 5 Sharon Ghar, di dentro guadagna Uragano 3B. E gli viene male a lasciare un gara al comando l'allievo di Gocciadoro, 11 anni, figlio di Varenna. Un 3,19 a partire è tranquillissimo per Arazi Boco, che ha il completamento della piegate e libero nel condurre. Ne viene fuori una corsa un po' super tattica. Il 400 inizia addirittura in 29,5. E viene via Vivid Y6S a muovere un po' le acque. E lo Cisano punta con il suo AS e fa sì che Arazi deve allungare. Ci va al completamento dei 600, 44 da 1,13,3. Ve l'ho detto, ne è venuta fuori una corsa tattica. A Raggi Boco, Vivid Y, Suragano, Sharon Ghar. Mezzo miglio iniziale nell'ordine del 59, addirittura una frazione in 14,1. E cavalli che affrontano il penultimo rettilineo. Nulla muta, nulla cambia, nulla cambia, nulla muta, Vivid Allargo di Arazi Boco. chilometro in 1,12,9. Ora è venuta fuori una frazione in 13,9. Arazi allunga, Uragano di dentro, allarga uno stoico Vivid Wise. Curva finale. Ancora una frazione in 13,5. Fanno 1,26, tre quarti di miglio. Sembra controllare Alex. Va lì al completamento della curva finale. viene via Ruvarendeni, ma trova traffico. Arazi allunga, mantiene il comando. Uragano di dentro. Se ne va Arazi, Uragano di dentro. Uno stoico Vivid Wise. Arazi Boco, come, quando vuole, Uragano. E per il terzo, sul palo, c'è foto, stretta, stretta. Ma molto stretta. Signori, un piccolo show, una promenade de santé. Mirando, mirando, ballando, ballando per questa Arazi Boco. Uno cinquanta tre otto. Uno undici e uno. Signori, fa paura quest'ennesimo Varen. Pensata a quasi l'età mia, c'ha undici anni. Ma vola, vola, vola. Chiusura in due euro, un ottimo Uragano. Vivid, allargo, di dentro, un grande probo P. Costringono il giudice alla fotografia. Vivid Wise AS a stracorso, signora, a solo quattro anni. Pensato quella che ha vinto undici. Che differenza di età. Luigi Migliaccio, a te la linea. E bene, bene, allora, riapprezziamole anche le immagini.